Qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un virus? Una tenia intestinale? Quello che il signor Cobb vuole dire è che... Un'idea. Resistente, altamente contagiosa. Una volta che un'idea si è impossessata del cervello, è quasi impossibile sradicarla. Un'idea pienamente formata, pienamente compresa, si avvinghia. Qui, da qualche parte.